Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Fare attenzione per il maltempo con neve prevista sul tratto appenninico della A1 e sulla A15 tra Fornovo e Pontremoli, sulla Fipili vento forte lungo tutto il percorso. E in A1 veicolo fermo tra Valdichiana e Chiusi-Cianciano in direzione Roma. Sulla Fipili personale su strada per lavori tra Livorno-Aurelia e Livorno-Porto in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Monteriggioni e Badesse in entrambe le direzioni fino al 6 dicembre. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!